Dopo quattro anni e mezzo di sviluppo, dopo venti mesi di lavoro, che non abbiamo fatto noi però, dettagli, esce finalmente la Diversity 3 e noi subito la andiamo a fare dopo che abbiamo portato sul canale la Diversity 1 e la Diversity 2. Ma noi chi vi direte? Noi, si intende io, ovviamente, e il mio compare di mille avventure, Tearless, direttamente dal Wakanda. Hola, ciao gente. Con quale microfono retro, Tear? Eh, lei non è fatto apposta, è un memino. C'è una tormenta di sabbia? Ma come c'è una tormenta di sabbia? Dove la vedi la tormenta di sabbia? No, dove sei tu? Ah, io, no, ma nel Wakanda c'è la sabbia, io non so quale sia il Wakanda. No, non c'è la sabbia, nel Wakanda c'è Black Panther. Puoi metterti in normale, grazie. Fatto subito, ciao bello. Oh, ok. Perché, nonostante le meme, le tradizioni di questa serie che, una volta registravamo con microfoni di merda, Siamo nel 2019 e finalmente... Cioè, l'avresti mai detto che tornava a Diversity? No, non dopo i cinque anni. Comunque, ragazzi, dopo aver fatto, a dicembre, quella mega mappona, la Pyramide, calcolate che la Diversity potrebbe essere una sorta di seguito, tra molte virgolette, di quel filone di serie. Quindi una mappa che andremo a fare, dove non ci sfideremo, ma dovremo cercare di collaborare, ma ovviamente ci sarà sempre un po' di rivalità. Perché mai dovrebbe essere una rivalità? Dobbiamo collaborare, siamo amiciuiti. Tu devi sempre stare sul secondo gradino del podio, capito, Tear? Ma tanto, anche se mi sforzo, finisco sempre soltanto lì, non ti preoccupare. Esatto, LOL. Comunque, ragazzi, vi voglio belli naip, quindi dovete lasciare subito un like. Mi raccomando, a quanti like dobbiamo arrivare, Tear? Tu che sei abituato a chiederlo. Dodici. Dodici, scusate. Dodici, sei serio? Dodici, sì. Un po' di più, ho sbagliato. Nei commenti dovete scrivere da dove verrà la prossima volta Tear. Guarda, dovete inventarvi proprio il paese più strano per far venire Tear. E vediamo sì. Far venire geograficamente, non in altri sensi. Ovvio, ovvio. Quello ci pensa già alla sua ragazza. No, no, io ho dedicato la mia vita al signore. Non faccio più queste cose. Al signore... Ti quello al piano di sopra. Ah, ok. Perfetto, questa è tipo la sua massaia. Bravo. Perfetto. Ultima cosa, dovete sapere che in occasione di questo lancio e soprattutto della Pasqua, ho deciso di... Non ho lanciato niente, lo sto per fare. Ho deciso di mettere uno sconto sullo Shop delle Maglie, che vale solo per oggi, domani che è Pasquetta, fino a martedì a mezzanotte. Trovate tutte le informazioni in descrizione e nel primo commento pinnato in alto. Questa lobby... Questa... Lobby non la capisco. Io prendo tutto. Non ti lascio neanche le bricciole. Guarda, qua c'è un'altra cesta, quindi mi io inco l'altra. Io prendo questa. Ma questa cesta qua è chiusa a chiave. Come è chiusa a chiave? Ho scritto che quella cesta è loccata. Anche questa qua. Vabbè, io mi prendo quelle aperte. Cavoli tuoi. Ma dai! LOL! Tiara, dimmi. Allora, ricordiamo una cosa. Come funziona questa mappa, per chi non lo sapesse. Questa mappa funziona come una sorta di CTM, ma non è la classica CTM. Per niente. Ma non si va da nessuna parte qua. Si gira in tondo. Devi tipo... Ok. Passa dall'altra parte. Ci sarà un monumento da completare. Ogni lana farà riferimento a una mappa diversa, si può dire. Perché ogni lana... Esatto, ha una categoria a sé. In questa mappa ci sarà il parkour, il dropper, la boss fight, la survival. C'è tutto. Tutte le modalità. Ogni puntata avrà una modalità diversa. Quindi sarà estremamente diversificata. Sto proprio aspettando con ansia il dropper e il parkour. Saranno le due parti... Io non vedo l'ora. Oh! Oi? C'è un messaggio. F3 più A per fixare il framerate. Grazie. Grazie, ma non ne ho bisogno, zio. Tra l'altro ringraziamo i creatori della mappa che sennò si offendono e lasciamo tutti i credit in descrizione. Giusto. Qua c'è un enorme edificio. Carino. Ok. Facciamo finta che è casa tua. Ok. Così... Arrivo. Facciamo il video. Entro in casa di Tearless Rapp. Vai, vai, vai. Ciao! Oh mio Dio, Tearless sta registrando. Ah, no. Ok, non mi puoi fare danno tanto. Quindi io entro lo stesso. Guarda! Cosa c'è? Cos'è? Mi stavo... What the... Oh mio Dio, queste... Aspetta. No, è possibile che siano mappe? È una resource pack? No, è una resource pack, dai. Credo sia una resource pack. Perché se sono mappe sono pazzi. No, ma non puoi. È solo una mappa. Dai, tutto quel dettaglio di blocco. Ma che è sta roba? Sai che forse sono delle mappe davvero? Magari c'è il modo di autogenerarle. Sai che ci sono i programmi con cui puoi autogenerare le strutture acceleratose? Ma che cos'è questa struttura? Non lo so, è... Sembra una sorta di... Complex. No, ok. È una resource pack, Karen. Sono delle cose. Questo blocco qua non c'è in Minecraft. No. No, quindi no. Aspetta, no. Non è tipo il fondo di una shulker? È davvero se fosse così? La parte di sotto non l'ho mai vista. Esploriamo? Non so cosa fare. Tu esplora pure, io sto qua a giocare al GameCube. Bella. Ma forchè, ma... Cioè il GameCube voglio giocare... Ma vabbè, ma niente. Vada via al GameCube. Non lo sa. Lol. Allora, sì. Tu devi venire al piano di sopra. Arrivo, arrivo. Questa casa è enorme. Ho visto dove sei andato. È dannatamente enorme. E credo che... Dovremmo salire tipo qua, non so. Qua c'è il... La faccia del bagno. E vabbè, guarda. Tier, anche loro non hanno il bidet e tu no. No, loro non ce l'hanno il bidet. Tier, lo specchio funziona? Cosa? Tier, ma perché sono uno zombie e tu uno scher... Tier, guarda. Cos'è? Lo specchio funziona. Cosa? Oddio. Oddio, cioè... Siamo ancora nella mappa. Sto già volando. Ma che cos'è? No, ti rendi conto che il mob si muove... No, vabbè, sono matti. Salta. Salta, funziona perché si salta. No, vabbè, ragazzi. Vabbè, ok. Possiamo andare nella mappa vera, ora? Io voglio una lana che si trova solo negli specchi. Sai che trip? Tipo quello del labirinto. Eh, mamma mia. Guarda che... Magari fanno una cosa del genere. Io spero. C'è la Q di Qmagnet. Diversity 2. Di 2. Che bello. Che bello. Che ricordi. Andiamo se... Io penso che dovremmo andare sul tetto, Tier. Non so cosa ne pensi tu. Tira la leva. Oh, c'è un libro? Oh, oh. Preso. Concept. C'è scritto che l'accesso alla libreria non è stato finito. Perché è tipo una lista. Tipo Giant Spruce Door fatta. Arte fatta. E c'è la Bookshelf Access. Che non è stato fatto. Quindi forse è un indizio. Può essere. Aspetta che tiro questa leva qua. C'è una leva qua in cima. Non so se l'hai vista. Dov'è? Qua. Accanto al libro. Era due blocchi più a sinistra. Adesso provo a tirarla. Grande, Tier. Niente, niente, perfetto. Molto vero. Bravo, Tier. Grazie. Iniziamo subito a impegnarsi. Questa è una libreria. Tier, se vuoi interagire con me, tu devi guardare alla tua destra. Io devo guardare di qua. Ciao, Tier. Ciao, Tier. Aspetta, io sono in alto a destra. Sì, è giusto. Ciao, Tier. Tu devi girarti verso la tua destra. Verso la mia destra, sì. Perché io sono in alto a destra nelle video. Era questa la domanda. Sì. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Non ti guardo. Ti guardo le mani tantissimo. No, non mi stai guardando. Non è vero. Non ti flippo in editing. No. Ti guardo verso l'alco. Oh, c'è una leva sotto. Ok, ho aperto qualcosa, Tier. Ho sentito deciso. Ah, ok. Lol. Ma dai, c'è un passaggio. Tier, nella tua casa c'è un passaggio segreto. Ma questo, cioè, mi piovono titoli in faccia. Eh, l'ho fatto a posto. Ehi, guarda. Ci sono diversi T3 by Qmagnet. Ah, ma tutti quanti qua sono i settings che abbiamo già messo. Ok. Grazie. C'è scritto, non la dovrei chiamare diversi T4. Vedi, che dissa quelli che avevano fatto la diversi T3, che era un fake. Infatti io non l'ho portata, perché era una cacca con la roba. Che cos'è questo? Sì, parecchio. What? Ma che cos'è? Uno va verso l'alto e verso il basso l'altro. Ok. Ah, bene. Qua c'è un piccolo Vex. Si chiama Vex questo coso? C'è un foglio qui. Eh, common block. Uh. Oh. È il coso del mare? Eh no, è quello degli Shulker. Io non so nulla di Minecraft 1.13. Io credo che tutta sta roba, c'è questi slot, ma è tipo tutto un test in realtà. Non è... Può essere, come se fosse un laboratorio in cui ho fatto i test. Esatto. Guarda, sta roba cambia ogni volta che lo giri. Ah, si sono delle persone che hanno lavorato alla cosa. È tipo una sorta di allenamento. Ti fa capire varie funzioni. Ma vedi, qua ti posizioni, ci sono tutti quanti i nomi delle persone che hanno lavorato alla costruzione della mappa. Ah, figo. Questa è bella come cosa. Beh, sì, ma in tutto ciò che cosa dobbiamo fare? Ah, guarda, 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 dobbiamo mettere un codice da qualche parte, evidentemente. C'è scritto, ricordati, il codice è il nome del creatore della diversity. Qua, c'è scritto per terra. Sì. Guarda, c'è scritto lì. Non so bene... Fermo. Sarà, beh, sarà lui. Q magnet. Beh, sì. Quindi mi sa che dobbiamo riluminare quel pezzo di carta? Provo. Poi troppalo qua. Checking. Vediamo se... Ma io non so se... Cioè, davvero inizia qua la mappa? È tutto così stra... Eccolo, sapevo. Eccola lì, ma non l'apertura. Tiara, tiara, abbiamo sblocchiato il passaggio segreto della diversity 3. Quanti titoli clickbait davanti a noi? Guarda, mi ero preparato nella mia casetta lì. Mamma mia. Vieni, tiara. Sapevi che nella casa di Tearless c'era una cosa del genere? Certo, l'avevo preparato. Però, Tia, c'è un problema. Se io metto il titolo, entro nel video di Tearless Raptor. Non fa visual. No, perché non è il mio video. No, ma perché non farebbe visual col tuo nome. Oh, lol! Dai, torna, stupido, che abbiamo appena trovato una cosa gigantesca. Guarda, Tia. Arrivo. Che cosa c'è? Ma scusa, ma questa casa che diamine nasconde? Ma la madonna! Non siamo ancora arrivati al lab! Ma quanto cosa non è sta mappa? È come quando in God of War vai sotto la tartaruga. Esatto. Cioè, è gigante. C'è una leva con i vari colori delle lane qua. Mi sa che ci porta al lab. Provo, eh. Al monumento, vai. Oh, oh. Ok. Cos'è? Sento pistoni che si muovono. Anche io sento pistoni. Ho paura, Tear. Si è attivato qualcosa. Bianco, giallo. E bianco, arancione. Oh, si stanno attivando tutti! Oh, boi. Si sta riattivando. Si sta risvegliando il monumento. Stiamo creando... Esatto. Stiamo ricreando la mappa. Stiamo attivando qualcosa. Ma va, va. Ultimo bico. Aspetta, non saranno... Non sono sedici, però. Sono otto. È un caso? No, non sono otto. Quante sono? Ma sono dieci. Perché siamo ciechi? Perché? Mi vibra tutto. Tear, non riesco a muovermi. Tear, sto volando. Tear, sto volando. Aiuto, Tear. Cosa? Tear? Ci sei? Sto vedendo un incubo io. Io sono dentro la testa di qualcuno. No? Che cos'è? Ah, io sono sopra di te. Ma che è? Aiuto, raga. C'è un mio onore? Stranger. Questa è la testa di Q-Magnet. Siamo nella testa di Q-Magnet? Perché? Guarda la schiena, la sua. Traniero. Sei molto lontano da casa. E quindi? Quindi? Ma mi sento connesso con te. Ok, però non farmi gliciare nel terreno se mi senti connesso, please. Lo senti? No, non capisco. Q-Magnet, cosa mi vuoi dire? Io vedo solo un tear sopra la mia testa. Guardalo, tear, dove? Ciao! Questo posto è... Il monumento deve essere completato. L'antico vaso andava tratto in salvo. Hashtag ero ai veri. Ehi, oh. Ce le hai in testa. Devi trovare le lane. Inserirle nella cesta. Oddio, che figata. Io metto in F5, altrimenti non vedo nulla. Ma sono nove le lane. Uno, due, tre, cinque... Oh! Non ho fatto i dettagli. Q-Magnet presenta! Simo! Aiuto! Diversi T3. Non ci sta nel mio schermo, che bello. Davvero non ci sta? Sì, no, non ci sta. Perché sono in finestra, mannaggia. C'è una lana bianca. Eh, siamo arrivati. Tierra, ma dove sei tu? Sono dietro di te. Non ti vedo. Sei invisibile. Esco lì. Eccoti. Bella. Ci siamo. In qualche modo abbiamo trovato il monumento. Dopo 15 minuti di rec. Penso che sia qua la chest del monumento. Guarda. Insert item. Ah, sì, quindi qua va inserita la lana. Sì. Ma dov'è la lana? Io credo che non siano 16 lane. Un po' ci rimango male. Ma sono un po' di meno, evidentemente. Sì, basta che l'abbiano fatto bene. Ma se ti ricordi, anche nelle vecchie mappe di Versity non erano 16 lane. Erano una decina circa. Ah, è vero, è vero. Ok, vabbè. Staremo a vedere. Ma in ciascuna isoletta si aprirà un portale che ci porterà alla categoria corrispettiva. Eh, però non so dove tu sia. Ma ancora, di nuovo. Er, seguito di te. Continua a perdermi. Ah, ok. Allora, ascolta. Tu segui me. Facciamo così. Ok, mi seguo te. Però smettila di andare a zigzag. Ti perdono. Allora, un attimo. Non sto facendo apposta. Voglio capire da dove cominciare. Perché di solito si comincia dal bianco. Dov'è il bianco? Il bianco è... O forse c'è tipo un ordine prestabilito. No, ma attorno a noi non ci succede. Ci sono tutte le isole di tutti i colori che abbiamo visto prima, ma non c'è quella bianca. Quindi vuol dire che quella... No, ma ce ne sarà una connessa. Secondo me c'è un ordine. Dov'è a trovarne una connessa. Secondo me si attiveranno in ordine. Eh, ma sì. Ma ce ne sarà una da cui iniziare, no? Capisci cosa ti voglio dire? Sì, sì, sì. Tipo questa qua. Ecco, l'isola blu è con... Non è connessa l'isola blu. Ok. Ma la posso raggiungere parkurando? No, è troppo lontana, mi sa. Vicino a dove siamo spawnati, Eren? C'era un pezzettino di lana bianca, non so se l'hai visto. Ma sì, ma dici che va raccolto in qualche modo. Vediamo se si deve essere... Si può raccogliere... Oh, è vero. L'ho raccolto. Oddio, era sul piedistallo. No, vabbè. Oh, che figata! Sto piangendo. Guarda che... Magari è lì per bellezza, attiva qualcosa. Invece no. Quindi vai. Tiara, la metto. Vai, Eren, inserisci. Messo. Cosa... Non so se... Sta analizzando l'item. Stai analizzando l'oggetto. Stai indietro. Fai un passo indietro. Non so cosa deve succedere. Non lo so neanche... Oh, si sta alzando qualcosa. Oh, wow, 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 wow. Oh! La rana sta spinnando. Si è piazzata lì, guarda. Primi L per vedere gli... L'advancement della diversity. Oh, ha pure degli advancement personalizzati. È diventato buio e c'è la tempesta. Ok, non è tutto a posto. Cosa? Abbiamo sconnesso il tessuto spazio temporale. Oh, 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 lag, laghino. Ha laggato tutto. È esploso qualcosa? Oh, si è attivato qualcosa? Allora, stavo vedendo un attimo gli achievement. Sì, fammi dare una richiesta. Allora, dropper branch, survival branch. Uh, quanta roba, trivia, arena, adventure. No, no, ho letto i lightra branch. Yes, i lightra branch. Non vedo l'ora, non vedo l'ora, yes. Sì, che bello. Ci sarà da ridere un sacco. No, ho l'elitra branch. Ok, quindi, ragazzi, abbiamo attivato il monumento con la prima lana, si potrebbe dire. L'abbiamo risvegliato. L'abbiamo risvegliato il monumento. A questo punto vorrei capire quale sarà il primo ingresso. Beh, guardando come erano messi in ordine nel luogo in cui l'abbiamo riattivato, dobbiamo partire dall'arancione, suppongo. Perché è stato il primo bicon ad accendersi dopo quello bianco. Tra l'altro, hai per caso qualcosa nell'inventario? Perché mi devi aver sentito cose droppare. No, non ho niente nell'inventario. Oh, oh, guarda! Aspetta, aspetta, qua c'è un... Guarda. Tira la leva. Si è creata una scala là in cima. Dove? Sopra l'albero. Io lo stavo inquadrando. È vero. Là sopra l'albero si è apparsa una scala. Andiamo a vedere subito. Sì, ma quanta roba c'è? Ma ci sarà pieno di piccoli easter egg. Mamma mia, è impressionante sta cosa. Cos'era, Tiar? Non lo so, se tu non muori ve... Un tridente. C'è un'altra leva? Un tridente? Ci hanno tirato un tridente. L'ho preso? No, ce l'hai tua adesso. L'ho preso, sì, l'ho preso. Mi hanno donato un'arma. Grazie. Dei... Greci. Dei diversitiani. Mamma mia, ma... Devo fare altro qua? Secondo me no, è semplicemente un bonus che... Siccome ha... E perché qua c'è una... Una... Una clay verde? Quindi vuol dire che dovremmo attivare una leva verde? Ci darà un oggetto sulla clay verde? Voglio completare tutto. Adesso devo andare a cercare la leva verde. Dobbiamo farla così nella lobby. Tira la leva. Guarda. L'albero? Ci ha attivato la strada per andare al parkour. Ah! Probabilmente il parkour... La cosa... Il tridente ti serve per lanciarti sull'isola dell'arena. Non hai degli enchant? O ci dà? No. Non ha l'enchant quello che ti fa volare attraverso la conno? No. E tra l'altro non sta piovendo. Però lì abbiamo visto che l'arancione aveva pure un... Un ponte. Quindi andiamo a vedere un attimo il ponte. Andiamo a vedere quello. C'è troppa roba. Cioè, sono contentissimo. No, ma anch'io. Adventure. Oh! Ah! Tier! Tier! Mi ha trollato! Tier! Aiuto! Tier! No! Che sei, Eren? Sono caduto! Ho perso... No, ce l'ho il tridente. Ok, no, ce l'ho. Ma scusa! Ma cosa vuol dire? Mi sono avvicinato troppo... A me? Aspetta. E quindi tipo... Ne ho ricreato uno nuovo avvicinandomi e tu sei caduto. Tu vai? E una volta che sei di là vado io. Ah, sei tu che mi hai ucciso, quindi. Mi sa che è stato io ad ucciderti. Maledetto! Non l'ho fatto apposto, scusa. Sei un maledetto! Ah, devi anche tipo fare il parkourino qua. Tier, non ti avvicinare per nessuna ragione. No, no, io aspetto che tu vai di là. Ok, sono arrivato, sono arrivato. Dov'è il saltino da fare? Poco più in qua. Non mi spingere giù da bravo. No, non ti spingere. Lol. Ah! Ah! Ne è valsato la pena! Ne è valsato la pena! Sì! Sì! Lol! Lol! Yes, ho aspettato. Cominciamo così, proprio. Tier, c'è un'altra cosa molto strana laggiù. Guarda, arancione, giallo, verde, rosa. Probabilmente prima di andare a fare quello lì, è che quello finale, dovremo fare questi. Sì. E più avanziamo, più si sbloccano le varie porte. Dai, Tier, questa volta non ti trollo. Non mi fido mai. Non ti trollo, Tier, non guardarmi, però tu. Mi emoziono, se no. Mi hai messo apposta, grazie. Sì. Ti regalo della concrete powder arancione, se vuoi. Grazie, Tier. Te la do in regalo. Mi fa sempre piacere avere cose cittate. Ecco. Ma non so... Non era cittata, me la sono tratta per sbaglio! No! Non cominciamo, per favore! No, non cominciamo. Allora, allora, Tier. Tier, guardami un attimo. Cioè, l'intro è durata un sacco. Lo so. Perché io sto parlando con un pannello rosso in questo momento. Non è bello. L'intro è durata un sacco. Dimmi. E abbiamo trovato la lana bianca. Non pensavo che già l'hub fosse di per sé una sfida. Ma invece era così. E ce l'è. Quindi, noi fermiamo qua. Però, se la mappa piace, io la porterò tre volte a settimana. Quindi, ci vediamo martedì. Se fate i bravi, lasciate un like. Martedì faremo la prima sfida nel portale arancione. Bye bye! Ciao!